Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Starkey e benvenuti finalmente ad una nuova guida su Widdle. L'anno scorso ci siamo dedicati a Legends Arceus e a Diamante e Perla e ovviamente con Scarlato e Violetto non mancherà la collezione dello Shiny Hunting. Lo scorso anno praticamente siamo riusciti quasi a completare lo Living Shiny Index di Arceus, ci mancavano giusto i Viflareon e i Fossili e quindi sono oggi di nuovo con voi per spiegarvi i metodi di Shiny Hunting per quanto riguarda Pokémon Scarlato e Pokémon Violetto. Come sempre vi invito a venire in live dalle 19.30 alle 21.30 ogni giorno per cercare di completare come vedete dal layout lo Shiny Living Index anche di Pokémon Scarlato e Pokémon Violetto. Quindi ragazzi mi raccomando se volete un pizzico di fortuna venite in live perché a quanto pare porto davvero fortuna nel trovare gli Shiny. Ma bando alle ciance ora vediamo finalmente i nuovi metodi per cacciare i nostri mostriciattoli tascabili di colore diverso. Devo dire che rispetto ai giochi precedenti ovvero Spade Scudo e Legends Arceus siamo in una sorta di via di mezzo. Non è facile quanto Legends ma sicuramente non è difficile quanto Spade Scudo. Avremo a disposizione tre metodi questa volta per quanto riguarda Pokémon Scarlato e Pokémon Violetto per catturare gli Shiny e secondo me quelli più infallibili sono due quindi possiamo quasi valutarli come due e mezzo. Iniziamo ragazzi con il metodo ormai tradizionale per quasi tutti i giochi che è il Masuda Method. In questo caso raga io non ve lo faccio vedere al 100% perché purtroppo ciò che sto facendo per questa guida è soltanto per le persone che sono a inizio metà gioco. Poiché io sono ancora a metà gioco chiaramente non avrò ancora tutte le risorse accessibili per fare lo Shiny Hunting al 100%. Quindi questa guida è un po' per i nabi. Poi chiaramente poiché escono metodi a ripetizioni su lo Shiny Hunting come è successo anche con Arceus chiaramente se ci saranno altre novità, altri aggiornamenti farò anche un'altra guida. Allora il Masuda Method è molto più semplice devo dire rispetto ai giochi precedenti perché avremmo una sorta di boost o anche trick grazie ai panini. Ricordatevi bene ragazzi i panini saranno una cosa fondamentale per quanto riguarda lo Shiny Hunting sia per il metodo Masuda che chiaramente anche per i prossimi metodi. Però prima di parlare di ingredienti di panini facciamoci un attimo un resoconto di tutte le percentuali. Di base un Pokémon Shiny per essere trovato in maniera randomica quindi senza nessuna valorizzazione delle statistiche tramite per esempio oggetti oppure influenze come i panini sarà sempre di 1 su 4096. Questa volta viene confermata anche nel gioco attraverso i corsi dell'Accademia. Se competeremo chiaramente tutto il DEX come ogni gioco Pokémon riceveremo invece il Chromamuleto e la possibilità sarà sempre di 1 su 2048 quindi verremo dimezzati quindi la probabilità sarà molto più alta. Vi ricordo anche ci sono alcuni Pokémon che saranno Shiny Lockcati come per esempio gli Starter quindi non si potranno più fare soft reset per gli Starter, è probabilmente buono così. Poi i leggendari di copertina quindi sia Miraydon che Coraydon, il quartetto dei leggendari e per concludere tutti i regali che vengono dati durante il gioco. Per fare un esempio banale, Miao di Galar. Perfetto, quindi abbiamo detto i Shiny Lock, abbiamo detto le percentuali ora come possiamo chiaramente aumentare la probabilità di incontro cromatico è molto semplice. Per tutto ragazzi dirigiamoci a Mesapoli. Dobbiamo riuscire a fare un panino di livello 2 poiché a me manca un ingrediente che vi dico tra pochissimo farò il panino livello 1. Allora ragazzi per farlo molto semplice basta andare in due di questi negozi qua avremo la frutta infatti ciò che ci occorre è la banana quindi compriamo quante banane possiamo fatto questo andiamo nell'altro negozio e andiamo a comprare invece il burro e il burro di arachidi. Come vi ho detto in precedenza purtroppo sono ancora sprovvisto del burro di arachidi quindi per il momento ci accontenteremo soltanto di fare un panino con uovo livello 1. Va bene? Proseguite con la storia e sbloccherete anche chiaramente il burro di arachidi che vi permetterà di fare un panino appunto banana, burro e burro di arachidi che vi permetterà di creare un panino che vi dà per mezz'ora la possibilità del potere uovo livello 2. Ok? Adesso raga ciò che dobbiamo fare è molto semplice andiamo in qualsiasi zona perché in città chiaramente il picnic non si può fare quindi premiamo il nostro tasto X premiamo picnic facciamo uscire i nostri pokemon e come potete vedere mi sono messo in squadra un ditto eccolo qua adesso tocca fare il panino quindi preparo un panino non so effettivamente quali panini c'ho perché ne ho fatti veramente pochi però cerchiamo chiaramente uno che ci fa un potere uova in questo caso potete vedere dal layout abbiamo potere uovo livello 1 quindi questo diciamo è quello comodo che ci permetterà di avere un livello maggiore per schiudere le uova quindi facciamo velocemente il panino purtroppo ragazzi dobbiamo per forza subirci tutta questa animazione nel mentre per sbloccare il potere ora che abbiamo sbloccato il potere noteremo appunto che il nostro panino con confettura avrà il potere uovo di livello 1 e quindi teoricamente adesso ditto si può accoppiare con qualsiasi pokemon e avremmo un bel po' di uova attenzione ragazzi importante molte persone stanno dicendo che quando l'uovo esce con un bagliore giallo vuol dire che esce nel 100% ovviamente questa cosa è sbagliata perché quando vi esce questo bagliore dorato vuol dire semplicemente che il pokemon avrà un teratyping quindi sarete fortunati perché comunque avranno un tipo diverso adesso passiamo alle cose un po' più standard per quanto riguarda le uova ovvero il masuda method chiaramente anche qua funzionerà il masuda method basta che vi fate scambiare un ditto di un'azionalità diversa che non sia italiana in questo caso per esempio giapponese o anche inglese e chiaramente le percentuali saranno molto più alte per trovare lo shiny infatti di base quindi normale senza metodo la probabilità di trovare shiny le uova sarà sempre di 1 su 4096 con il masuda method invece sarà 1 su 2048 mentre se abbiamo il chroma muleto che si sblocca sempre completando tutto il dex più il masuda method quindi un accoppiamento tra ditto straniero e un nostro pokemon chiaramente a nostra nozzalità avremo addirittura la possibilità di 1 su 512 qui insomma ragazzi per quanto riguarda il metodo di breeding di masuda method è sempre lo stesso probabilmente forse è uno dei migliori ma a mio avviso sempre il più noioso ora passiamo invece a quello secondo me più simpatico ma soprattutto il più originale per quanto riguarda pokemon scarlato e pokemon violetto perfetto ragazzi ora passiamo al secondo metodo per lo shiny hunting secondo me quello più simpatico ma soprattutto quello più utile per chi come me sta ancora a metà gioco e che non vuole aspettare il post game chiaramente si può fare già da adesso anche anzi diciamo quasi da inizio gioco però con delle percentuali molto più ridotte con il post game invece voleremo troveremo un sacco di shiny che vogliamo il metodo in questione è nuovamente il must outback quindi come legends arceus avremo nuovamente le comparse massicce rispetto ai giochi di quarta gen purtroppo sarà molto più difficile in legends ragazzi sappiamo ormai che trovare pokemon shiny era veramente quasi come il pane quindi insomma quasi sono un po complicata la vita ma secondo me ci sta allora primo passaggio fondamentale mi raccomando dovete resettare l'autosave andate in opzioni e togliamo il salvataggio automatico come ho già fatto cliccando no questo ci permetterà chiaramente di poter recuperare lo shiny nel caso chiaramente ci scappa via oppure lo killiamo adesso sarà molto semplice perché dovremo aprire la mappa ciao fletching e cercare dei pokemon con un'icona particolare come possiamo già evincere da qua abbiamo un magikarp questa icona che vedete questa con il bagliore rosso è l'icona che rappresenta appunto il must outbacks che come potete vedere altri pokemon del genere non hanno quindi mi raccomando fate sempre attenzione ragazzi non so di preciso il numero totale per quanto ne possiamo trovare al giorno perché va in base al giorno della switch infatti mi faccio vedere un trucchetto ma dovrebbero uscirne dai 3 ai 5 al giorno ora per esempio se io non volessi cenare magikarp non volessi cenare shelter o altri è molto semplice raga basta che impostate in questo caso dalle impostazioni il sistema data e ora e basta aggiornare di un giorno e mettere ore 23 e 59 facendo così basta che aspettate semplicemente un minuto e la comparsa massiccia si riaggiornerà con nuovi pokemon ok ragazzi come potete vedere abbiamo una notifica i pokemon della comparsa massiccia sono andati via e ci sono delle comparsa massiccia di pokemon in corso questa notifica ci avvisa appunto che la mappa sia aggiornata quindi è molto semplice come dovete vedere non c'è più magikarp ma abbiamo per esempio azurril abbiamo psydac che purtroppo ne ho già un'infinità la mappa è molto grande quindi faremo un po' a fatica a trovarli tutti però facciamo un esempio con psydac perché è abbastanza grande ragazzi l'unico problema di questi massatobex come per esempio azurril è il fatto che purtroppo i pokemon piccini sono veramente difficili da cenare quindi vi consiglio almeno all'inizio prima che finita il gioco di catturare soltanto pokemon abbastanza visibili se no vi giuro ci perdete la testa ok ragazzi siamo arrivati come potete vedere qua abbiamo una comparsa massiccia di psydac questo cosa vuol dire che troveremo come potete vedere un bel po' di psydac adesso chiaramente sono in acqua quindi non si potranno utilizzare tutti i pokemon ma state bene attenti cercate quando fate una scene in acqua di utilizzare pokemon o volante oppure acquatici insomma pokemon che possono permettere di combattere in acqua perché adesso arriva la figata adesso dovremmo sconfiggerne più di 60 chiaramente non dobbiamo sconfiggerli in battaglia ma semplicemente con l'overworld quindi lanciare in questo caso con il mio pokemon e sconfiggere psydac adesso ragazzi dobbiamo arrivare a 60 questo ci permetterà appunto di fare una scene vi consiglio poiché il gioco non vi dice effettivamente quanti ne avete sconfitti di utilizzare un counter in questo caso mi lascerò già nel layout quindi faccio così perfetto adesso lo scopo di base è arrivare a 60 attenzione ragazzi arrivando a più di 60 non succederà nulla e c'è una cosa che nessuno youtuber al mondo vi ha mai detto per quanto riguarda questi mass outbreaks su scarlatta e violetto se ne sconfiggete troppi i mass outbreaks svanirà è un'esperienza che ho provato sulla mia pelle perché stavo facendo l'avdashk e quindi che è successo? è successo che sono arrivato a più di 60 tipo 80-90 se ne sono andati tutti l'avdashk e non l'ho più trovato shiny quindi mi raccomando fate sempre attenzione perfetto ragazzi dopo un bel po' di kill di psydac sono a quota 62 chiaramente non arrivate mai a 60 preciso perché magari sbagliate il conto o qualsiasi altra cosa quindi cercate di arrivare anche verso i 70 come potete vedere più ne sconfiggete più ne usciranno se abbiamo detto che le percentuali di shiny hunting standard sono di 1 su 4096 con questo metodo anche senza cromamoleto saremo intorno a 1 su 1300 il che ci porta l'unico metodo a mio avviso perfetto per iniziare già a fare un po' di shiny hunting senza essere arrivato chiaramente al postgame inoltre piccolo trick ragazzi come potete vedere abbiamo uno spawn di psydac e come vi ho già detto prima non conviene sconfiggerli semplicemente perché poi il massatrux potrebbe svanire quindi cosa si fa? dovremmo appunto aprire il picnic aprendo il picnic avremmo modo di resettare tutto lo spawn e quindi di ritrovare praticamente degli psydac ma chiaramente in maniera diversa quindi cosa si fa? si fa il picnic poi chiudiamo il picnic e adesso lo spawn cambierà totalmente per tutta la mappa di gioco quindi ritorno nuovamente dai miei psydac e come potete vedere adesso usciranno altri nuovi psydac sperando appunto che ci esca il cromatico dovremmo fare sempre questo processo praticamente ragazzi dovrebbero uscire circa 15 massimo quindi al quindicesimo se non c'è lo shiny resettate nuovamente il picnic e rifate le stesse cose che vi ho detto prima adesso mi è uscito veramente la peggiore analisi per fare questa guida perché purtroppo con quelli tipo acqua non possiamo fare il picnic in acqua quindi è difficile però con quelli terra è molto semplice perché basta che dopo che avete contato i 15 basta che fate il picnic aprite e chiudete sempre fin quando vi esce lo shiny quindi chiaramente diventa un po' più semplice come sempre i pagoni tipo acqua sono sempre quelli penalizzati per lo shiny hunting come qualsiasi altro gioco però è giusto farvi vedere la cosa più difficile per la guida giustamente vi state chiedendo starky ma quindi le probabilità sono massimo 1 su 1300 assolutamente no perché possiamo arrivare addirittura a 1 su 512 esattamente come il massuda method vediamo come perfetto siamo nuovamente sulla terra ragazzi ora vediamo i metodi per arrivare a 1 su 512 sempre con questo mass outbrakes in primi si cromamoleto quindi chiaramente se avremo il cromamoleto avremo modo di trovare pokemon shining con percentuale molto 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 più alta adesso però c'è una novità che vi ho accenato fin dall'inizio del video che è appunto il panino cromatico purtroppo ragazzi questo panino cromatico non potrò farlo su questa guida perché è un metodo che funziona ed è possibile ottenere diversi materiali alias ricette solo ed esclusivamente nel post game quindi questa guida è veramente per le persone che stanno a metà gioco come me bisognerà creare un panino con all'interno delle erbe mistiche che si otterranno solo ed esclusivamente dai raid di 5 stelle fino a 7 stelle vi lascio ovviamente uno screen per vedere tutti i modi per ottenere e fare questi panini cromatici anche in base al tapping che cercate questo ci permette appunto di aumentare per parecchio tempo la probabilità di incontrare cromatici all'interno non solo della chain ma anche in tutta la mappa però con la chain ovviamente le percentuali saranno ancora più alte di trovare il nostro pokemon cromatico la mia unica esperienza per quanto riguarda gli shiny all'interno di questo gioco è stato sfortunatamente combi maschio il 17esimo considerando anche tutti gli shiny combi che ho trovato su legend quindi spero chiaramente di trovare altro con scarlatto e violetto adesso ragazzi passiamo all'ultimissimo metodo di shiny hunting che secondo me è il peggiore ve lo sconsiglio almeno che non vogliate avere degli shiny rari 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 ovvero i raid shiny gli raid shiny sono una cosa secondo me un po' difficilotta per gli shiny hunters purtroppo non funzionerà nessun metodo abbiamo visto in precedenza quindi se abbiamo per esempio il panino cromatico purtroppo non funzionerà la possibilità di trovarlo shiny se abbiamo anche il cromo moleto non avrà effetto qua ragazzi solo culo 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 con possibilità di 1 su 4096 quindi per quanto riguardi i raid sempre chiaramente non facendo rng o qualsiasi altra cosa per trovarli in maniera pulita e stra legit dobbiamo per forza avere il mazzo tanto e nulla ragazzi io penso che per il momento è tutto poi chiaramente se uscirà altro ve lo faccio sapere mi raccomando se volete saperne di più perché io comunque farò questa guida durante le live di twitch chiaramente su starchi twitch lo trovate in descrizione vi aspetto ogni giorno dalle 19.30 alle 21.30 solitamente in live facciamo shiny hunting adesso facciamo anche un po' di storia perché sto cercando di terminare ma sono quasi alla fine quindi di base non vi preoccupate perché già questa settimana iniziamo con shiny hunting bello duro quindi se siete interessati a conoscere più questo mondo e se volete darmi anche un supporto per completare questo live index cromatico vi aspetto tutti quanti insieme per trovare shiny a volontà e giocheremo anche insieme si troveremo anche shiny insieme praticamente quindi una figata assurda e nulla ragazzi vi aggiornano appena saranno nuove guide ci sono nuovi metodi vi faccio sapere istantaneamente come faccio ogni anno dal vostro capitano starchi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video e buona caccia agli shiny ciao ciao ciao